Quanti giorni ti fermi? Quattro. Abbiamo un po' di soldi perché io sono proprio a secco. Possiamo fare quello che vuoi. Hai sentito Truman? Ce la spasseremo noi tre. Io e te. Truman e io. Lo so che preferiva che venissi con mia cugina, dottore. Che è molto più bella del mio amico, ma dato che è venuto a trovarmi, non potevo togliermelo dai piedi. Lui a te ti ascolta. Tutto quello che dici per lui è importante, Thomas. Qual è la cosa tanto importante che tu hai imparato da me? Sentiamo. Che non chiedi mai niente in cambio. Io ho due figli. Uno si chiama Truman. E vuoi disfartene per quale motivo? Parto per un viaggio e non posso portarlo con me. E io? E tu che? Che hai imparato da me? Assolutamente niente. Cose illegali di sicuro. Attenzione fan di film drammatici. Perché il celebre sito Rotten Tomatoes ha stirato la classifica dei 100 migliori film drammatici di tutti i tempi assolutamente da non perdere. Ed ecco la top 5. Al primo posto c'è Quarto Potere del 1941. Al secondo posto c'è Eva contro Eva del 50. Terzo posto Il Padrino del 1972. Scendendo dal podio, quindi al quarto posto, troviamo Metropolis del 1927. E poi seguito da Casablanca del 1942. Siete d'accordo con questa classifica? Voi invece che film drammatici consigliereste? Fatemi sapere scrivendo qui sotto e cliccate qui accanto, proprio qui, se volete vedere altri video. Ciao a tutti!